Musica Allora ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono X-Radar e oggi ancora una volta siamo con Sivi Ciao Ok, adesso come avete letto dal titolo Questo è un tutorial su come creare un canale Oggi creeremo il canale di Sivi Che lei ha deciso di chiamare Sivi Rose Senza prendere tempo iniziamo Prima di tutto dovete creare un account Google E vi consiglio anche una mail apposita Una volta fatto ciò semplicemente andate su YouTube Fate l'accesso e poi andate qua e fate il mio canale Così facendo vi potete automaticamente qua a creare il canale Quindi adesso mettete il nome e il cognome del canale Sivi Rose va bene, giusto? E fai Crea canale Ok, il canale è creato Se vi si blocca da qualche parte su una schermata bianca o roba simile Basta che ricaricate la pagina Adesso, qua, questa qua è la pagina su cui vi troverete Avete due opzioni, personalizza il canale, YouTube studio Oppure se volete anche caricare un video Aprendo il vostro canale, che potete aprire da lì Oppure cliccando qua il mio canale Andate qui al canale E dovete, adesso sul canale dovete caricare il vostro logo e il vostro banner Per caricare il logo andate qua Fate modifica Vi reindirizzerà la pagina La pagina sempre di Google E qua caricate una foto Io me la sono già preparata qua Questo qua è il logo che Sivi vuole Un logo che ho creato io Se volete Scrivete i miei commenti Possiamo anche concordarci per creare dei logo per voi E poi dovete ritagliare il logo In questo caso Lo facciamo a schermo intero Ok, fatto Fine E adesso il logo è stato caricato E potrebbe metterci un po' a mostrarvelo qua Anzi, no, ecco Mentre le altre volte che ho provato Quasi un anno fa e più Ci aveva messo un giorno Ma comunque sia Tranquilli che comparirà Adesso fai Aggiungi grafica del canale Per aggiungere il banner Fai Seleziona una foto dal tuo computer Le dimensioni devono essere Di 2560 per 1440 Possibilmente E anche in questo caso Ho creato un banner per Sivi Quindi fate apri E qua Questo è come appare Il banner del vostro canale Come vedete È tagliato Per sistemare queste cose Fate il ritaglia foto E qua potete vedere In questo caso Allora, questo qua È il riquadro Che c'è Normalmente Sui vari dispositivi Mentre questo qua È il banner completo Io adesso Dovrò andare a ricreare Da capo Cioè Andare a ricreare Il banner In modo che Sivi Rose Compaia qua Voi Voi Gestitela come volete Basta anche Semplicemente fare così Se volete Lasciare soltanto Rose I Rose I Rose I Rose Ecco Si chiami I Rose Adesso dovrò andare A sistemare Il banner Adesso Mentre quello carica Facciamo un taglio tattico E sistemo il banner Ok Ok Ho sistemato Il banner Di Sivi Come vedete È perfettamente Centrato E adesso Facciamo seleziona Ci metterà un attimo A modificarlo E ci sarà poi Il banner Effettivo Bene Bello Ok È un po' sgremato Vabbè A parte questo Adesso Vi spiegherò In un altro video Come Impostare Correttamente E al meglio Il canale Sia qua Che anche Nelle impostazioni Di Youtube Studio Cioè Questo qua E fine Il video è finito qui Spero che vi sia piaciuta Commentate Iscrivetevi Lasciate possibilmente La like X radar Auto Auto Era giusto No No come era BAN No come no Tearing up the sky, we're chasing the horizon